Sin dal suo annuncio, risalente ormai a quasi un anno e mezzo fa, Lords of the Fallen è stato inquadrato da critica e pubblico come un clone della serie Souls, e non ha torto. Gli sviluppatori polacchi sia i games si sono infatti palesemente ispirati all'opera di From Software, proponendo un gameplay fatto di impegnativi scontri all'arma bianca e boss caratterizzati da pattern d'attacco da studiare passivamente prima di passare all'azione. Ancora non sappiamo molto della trama che farà da sfondo alle interminabili sessioni di duelli tattici, ma all'apparenza Lords of the Fallen vuole proporre una narrazione meno criptica rispetto alla saga dei Souls. Il nostro personaggio ad esempio presenta un volte un nome ben precisi, a prescindere dalla classe scelta, e le sue vicende verranno narrate tramite dialoghi e sequenze filmate. Chiaramente la breve prova recentemente concessaci da Bandai Namco era piuttosto orientata al permetterci di saggiare il gameplay, passando per la creazione iniziale del personaggio. Quest'ultima comincia dalla scelta di una tra tre scuole di magia, quella dei chierici, dei guerrieri o dei rogue o ladri. La scelta va ad influenzare le abilità che si avranno a disposizione in battaglia, come la possibilità per il guerriero di non consumare la propria stamina per un certo lasso di tempo, o quella per il chierico di generare una copia inerte di se stesso in modo da distrarre temporaneamente i nemici. Una volta selezionato il set di abilità che più si addice al nostro stile di gioco, sarà possibile procedere con la scelta dell'equipaggiamento. Qui troviamo tre armature, leggera, media e pesante, che si rifanno alle medesime classi magiche, ossia rogue, chierico e guerriero. Starà dunque al giocatore decidere se aderire completamente alla scelta di una classe e quindi selezionare la medesima armatura e scuola di magia, oppure tentare dei mix. Quello che ci ha colpito subito del gameplay di Lords of the Fallen è la sensazione di peso che le armi e il protagonista riescono a trasmettere e i set di animazioni. L'utilizzo del motion capture ha permesso agli sviluppatori di creare un set di mosse molto differenti in base all'arma impugnata, alcuni dei quali richiederanno sicuramente un preciso allenamento per essere padroneggiati. È il caso ad esempio di un martello a due mani particolarmente pesante, che sviluppa attacchi in combo di diversi colpi, devastanti ma anche molto lenti. Oppure di una staffa dotata di punte all'estremità, impugnabile solo a due mani, che trasformava completamente l'atteggiamento del nostro guerriero, spingendolo a prodursi in attacchi roteanti. Nel complesso questa variegata offerta di offensive ci ha particolarmente convinto e potrebbe rappresentare un buon punto di distinzione per il gioco. L'arsenale che ci è stato possibile provare presentava inoltre una sorta di arma da fuoco, nota come gauntlet, dotata di munizioni da creare e combinando una serie di materie prime nell'inventario. Sebbene un po' bizzarro per il contesto, il gauntlet potrebbe riservare delle belle sorprese, dato anche il fatto che viene montato sulla mano sinistra e il suo utilizzo può essere conseguentemente alternato ai fendenti standard. Relativamente ai combattimenti affrontati, durante la nostra mezz'ora ci siamo trovati faccia a faccia con diverse tipologie di nemici standard e due boss. Relativamente a questi ultimi le sensazioni sono parzialmente positive, con alcune riserve. Sebbene l'impegno necessario a sconfiggerli ci sia apparso comunque di tutto rispetto, i rispettivi pattern d'attacco non ci hanno impressionato per originalità, troppo limitati e tendenti a ripetersi un po' troppo durante gli scontri. Va anche detto che si tratta di fatto delle prime due nemesi con cui il giocatore si misurerà una volta cominciato il gioco, in fase di pieno apprendimento delle meccaniche di base. Già da alcuni video distribuiti durante la Gamescom di quest'agosto avevamo notato boss fight più varie, dunque per valutare a fondo questo aspetto occorre attendere una prova completa della versione finale del gioco. Le basi per fare di Lords of the Fallen un gioco interessante sembrano esserci, ma arrivare a giocarsela alla pari con la saga di riferimento non sarà per niente facile. Rimangono dei dubbi anche sulla componente tecnica, non tanto per l'ottimo character design quanto per la stabilità del motore di gioco, che ci è sembrato soffrire un po' sul fronte del framerate e del tearing. In altre parole abbiamo notato elementi incoraggianti e altri meno, e il verdetto finale rimane ancora difficile da immaginare. All'uscita di Lords of the Fallen manca ormai meno di un mese, rimanete con noi per l'ormai prossima recensione.